Buone notizie per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Torna il volo ETA Airways. Pescara-Milano-Linate, andata e ritorno con due frequenze giornaliere nel fine settimana. Tutto questo grazie ad un accordo commerciale che è stato sottoscritto tra la Saga e la compagnia di bandiera italiana, soddisfatto il vertice della società di gestione dello scalo aeroportuale abruzzese. Uno straordinario risultato raggiunto grazie anche all'ausilio di ETA Airways. Dal 7 di aprile si torna a due frequenze quotidiane, uno che consente il trasferimento da e per Linate la mattina con partenza qui da Abruzzo Airport e ritorno la sera. Rimane invariata la frequenza pomeridiana con arrivo a Pescara e ritorno a Linate nel primo pomeriggio. Nei giorni scorsi avevate anche annunciato due nuovi collegamenti dall'aeroporto d'Abruzzo? Sì, diciamo che ci apprestiamo la Summer 2022 con queste tre buone notizie, il doppio collegamento su Linate e i nuovi collegamenti su Manchester e Memmingen. Queste sono scelte volute e condotte dalla nostra società di gestione con l'ausilio del vettore Rainer. Abbiamo individuato queste rotte perché presumiamo anche che possano portare un importante incremento di politiche di incoming. Ma ora si punta ad un'estate ricca di voli sperando di poter raggiungere i numeri degli scorsi anni. Ci apprestiamo un'importantissima stagione Summer 2022 con circa 20 destinazioni collegate, molto estero, una buona percentuale di incoming, quindi anche il territorio deve essere pronto a recepire i turisti che arriveranno in Abruzzo. avremo un maggior numero di frequenze rispetto all'anno scorso e per come sta andando il mondo credo che non potevamo fare di meglio.